Il Consiglio Comunale di Benevento approva il bilancio di previsione, ma lo fa senza i voti degli ex amministratori. Il caso ha una sua singolarità se si considera che, pur avendo gestito le finanze del Comune fino a giugno, a dire no è proprio l'ex amministrazione. A convincere ad un netto di niego l'ex sindaco Fausto Pepe variazioni che riguardano la programmazione del personale, l'alienazione di beni e i servizi a domanda individuale. Dicono no anche i pentastellati Marianna Faresa e Nicola Sguera. Per loro la maggioranza pecca nel limitarsi a considerare l'approvazione un atto dovuto. I quattro gruppi di maggioranza però restano compatti e con 21 sì c'è il via libera al previsionale. In Consiglio poi anche la questione GAL, anche questa approvata. Dunque il Comune di Benevento aderisce al gruppo di azione locale ed entra a far parte dell'associazione temporanea di scopo composta dal gruppo Tammaro, Terre dei Trattori, Capogruppo e Galtiterno. Anche in questo caso contrari i 5 Stelle.